Gli ex dipendenti della Sogesa, Domenico Daniele D'Antonio di Crescenzo Aquilani, devono tornare al lavoro. Ancora una vittoria in tribunale per i due, difesi in giudizio dall'avvocato Simona Manzilli. In appello è stata dunque confermata la sentenza di primo grado con cui era stato riconosciuto il loro diritto all'assunzione alle dipendenze del CSA, il Consorzio Stabile Ambiente Scarla, presso il Polo Tecnologico di Grasciano, con conseguente condanna del Consorzio all'assunzione dei due lavoratori e al pagamento in favore di ciascuno delle differenze retributive maturate dal 2015 all'effettiva assunzione. La vicenda risale al 2015, quando il Consorzio Stabile Ambiente dell'Aquila, subentrato alla fallita Sogesa nella gestione del Polo Tecnologico di Grasciano di Notaresco, rifiutò di procedere alla riassunzione prioritaria del personale ex Sogesa, come al contrario si era impegnata a fare accettando il capitolato Doneri prestazionale emanato dalla Regione Abruzzo per la concessione in gestione del Polo. Non hanno voluto starci però i due operai che quindi si sono rivolti all'Avvocato Simona Mazzilli del Foro di Teramo, dando inizio così ad una vicenda giudiziaria davanti al Tribunale del Lavoro dell'Aquila, conclusasi ora con la vittoria dei due lavoratori sul gestore CSA, che non volendosi arrendere però ha fatto ricorso alla Corte d'Appello, la quale, con sentenza del 5 luglio scorso, ha confermato il diritto dei due all'assunzione e al pagamento delle retribuzioni che avrebbero dovuto finora percepire, se regolarmente assunti, nel 2015.